Il gioco consiste nell'estrarre da un testo famoso le trame essenziali e riassumerle in modo corretto, ma creando qualche difficoltà di identificazione, anzi lasciando supporre che si tratti di un'altra opera. Il titolo deve essere ingannevole e allontanare il lettore dalla soluzione. Una storia in colore, ambizioso, sognava. Napoleone e Marenghi poteva accontentarsi, era ben voluto sia dai preti che dalla famiglia del sindaco e avrebbe potuto sposarsi bene e metterle mani su un patrimonio di una certa mole, ma si è giocato tutto con un tiro maldestro. Ha proprio perso la testa.